Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché oggi volevo fare un video abbastanza veloce in cui volevo spiegarvi come migliorare i vostri artefatti ma soprattutto come migliorarli dal punto di vista anche qualitativi. Come ben sapete ovviamente il nostro gioco è caratterizzato dalla possibilità come vi ho già spiegato nei video precedenti di poter migliorare il livello del personaggio tramite gli attributi e quindi di conseguenza aumentare il livello del vostro personaggio tramite i libri che si possono ottenere durante l'esplorazione, all'apertura delle chest o tramite ricompense di speciali eventi. Le armi che si possono potenziare come livello tramite l'utilizzo di cristalli o di altre armi che non si utilizzano e che quindi permettono la realizzazione e la potenza successivamente dell'arma. E poi infine gli artefatti che come equipaggiamenti danno la possibilità di ottenere non solo dei bonus per quanto riguarda le caratteristiche ma anche dei bonus per quanto riguarda appunto diciamo la potenza vera e propria del nostro personaggio. Per quanto riguarda gli artefatti non ho mai fatto un video nello specifico e infatti voglio rimediare adesso. Gli artefatti come ben avrete visto durante la vostra esplorazione del gioco sono divisi in 5 grosse categorie. I fiori, le piume, le clessidre, i calici ed infine le corone. Per quanto riguarda questi artefatti c'è da sottolineare ovviamente un aspetto importante che magari non tutti hanno attenzionato nel corso del loro gameplay. Ovvero il fatto che i fiori quando equipaggiati aumentano solo ed esclusivamente gli HP. Ora come potete vedere sulla destra abbiamo praticamente i riferimenti che vanno ad implicare il potenziamento del nostro artefatto. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il valore che noi vediamo inizialmente sta ad indicare il parametro che si va ad aumentare di default. Come vi ho già spiegato prima i fiori in default vanno ad aumentare solo ed esclusivamente gli HP. Infatti se noi andiamo a vedere anche tutti quanti gli altri artefatti che possediamo il valore principale è sempre e comunque HP. Quindi di conseguenza che cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente i fiori tendono non solo ad aumentare gli altri parametri e vedremo successivamente come ma tenderanno soprattutto a darci gli HP. Quindi noi non avremo mai la possibilità di perdere in un qualche modo HP ed è anche per questo che ovviamente il level up tende comunque a ricompensarci sia con gli HP e poi con le altre statistiche. Per quanto riguarda invece le piume la caratteristica principale che verrà aumentata da essa saranno sempre e solo l'attacco. Infatti come potete vedere tutte quante le piume che si possiedono all'interno del gioco aumenteranno come statistica predefinita l'attacco. Per quanto riguarda invece tutti gli altri artefatti abbiamo statistiche casuali. Infatti abbiamo per esempio l'eclessidre che ovviamente ora in questo caso aumenta attacco, in questo caso aumenta HP, in questo caso aumenta difesa, in questo caso di nuovo HP. Poi difesa, Energy Recharge, abbiamo Elementary Master, abbiamo praticamente la possibilità, vedete anche l'Energy Recharge, abbiamo comunque la possibilità di poter variare e poter spaziare in base ovviamente al nostro riferimento che appunto vogliamo potenziare. Successivamente i calici hanno lo stesso meccanismo, come potete vedere tutti praticamente gli artefatti che non siano fiori e non siano piume praticamente aumentano di tutto. Ed è questo che praticamente ci consente di avere una sorta di miscuglio, ci consente di avere la diversificazione di quello che è il nostro potenziamento. E le corone stesso identico discorso, abbiamo percentuali di attacco, percentuali di healing bonus, difesa, crit damage e praticamente tutto ciò che concerne il nostro personaggio in quanto possiamo potenziare appunto queste caratteristiche. Ci sono delle differenze che ovviamente tendono a sottolineare anche l'importanza dell'artefatto, ovvero Quando noi andiamo a analizzare o comunque andiamo a guardare nel dettaglio un artefatto, notiamo che sia gli artefatti di 3 e sia gli artefatti di 4 stelle hanno comunque dei riferimenti di base standard uguali. E allora uno potrebbe dire effettivamente, ma perché allora esistono le stelle negli artefatti e quindi la possibilità magari di avere un artefatto 5 stelle e flexare l'artefatto 5 stelle nei confronti di un artefatto 4 stelle? Beh, la risposta è molto semplice, cambia il grado di potenziamento ma soprattutto cambiano i bonus addizionali in base al livello di potenziamento. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che potenziando un artefatto 5, 4 stelle, 3 stelle, ogni tot livello, come potete vedere, per esempio sulla mia destra ho praticamente un artefatto a livello più 9, in questo caso come il fiore più 9, ci consente di sbloccare dei potenziamenti aggiuntivi alla nostra destra. Infatti, come potete notare, abbiamo il fiore che aumenta gli HP di base, come vi ho detto, che è il valore predefinito default. Successivamente in basso, come potete vedere, riusciamo a sbloccare man mano che l'artefatto aumenta di livello, dei bonus addizionali. Quindi l'attacco 4,7%, l'energy recharge del 3,6%, l'attacco 16% e difesa 4,1%. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi, tendenzialmente, in base all'artefatto che abbiamo e in base all'artefatto che andiamo a potenziare, possiamo decidere quale conviene potenziare ed equipaggiare in base, ovviamente, alla classe che abbiamo di fronte. Ora, io per esempio Venti l'ho costruito in una maniera un po' ibrida, nel senso ho tentato di spingergli un po' l'attacco, ma fondamentalmente parlando, gli attributi che per lui io ritengo opportuni sono l'energy recharge e l'elemental mastery, in modo tale da poter fare molti più danni con i suoi attacchi elementali e, ovviamente, l'energy recharge che mi serve, appunto, per guadagnare più velocemente la possibilità di effettuare i miei attacchi elementali. Però, al tempo stesso, sto cercando anche di aumentare l'attacco in generale per permettergli di fare danno anche tramite l'arco, perché, ovviamente, l'arco, essendo la sua arma principale, deve comunque fare un pochettino di danni. Anche se devo ammettere che attacco, crit rate e tutte quelle caratteristiche che vanno ad aumentare il potere offensivo sono prettamente consigliate per i DPS, ovvero quelli che fanno danni per secondo, quindi coloro che picchiano all'interno del vostro rooster di personaggi. Detto questo, passiamo al discorso vero e proprio del potenziamento degli artefatti. Allora, cosa cambia, quindi, da un artefatto 4 stelle a un artefatto 3 stelle e via dicendo? Cambia, praticamente, la richiesta, mettiamola così, di livelli per sbloccare abilità addizionali. Che cosa vuol dire? Se noi notiamo, per esempio, un artefatto 4 stelle, a livello 0, quindi a livello base, praticamente ci consente di avere due effetti addizionali bonus. Quindi, se noi adesso qui abbiamo un fiore, in questo caso, che è già a livello più 9, che ci ha sbloccato 4 effetti bonus, qui adesso abbiamo praticamente un fiore, sempre 4 stelle, che ovviamente dà gli HP come valore principale, però già da due riferimenti di base che ci consentono comunque di vedere un artefatto buono in base alla classe che vogliamo utilizzare. Mentre invece, un artefatto più 0, in questo caso, ora me ne sta dando due, come potete vedere, anche in questo caso me ne sta dando due, però, come potete notare, i valori sono decisamente più bassi. Per esempio, attacco più 7 ed Elemental Mastery più 14, in questo caso. Mentre invece, già con un artefatto 4 stelle, abbiamo addirittura un attacco più 12, quindi praticamente quasi il doppio della statistica originale, e un crit rate già del 3,1%, ad esempio. Mentre invece i tre stelle hanno delle cifre un po' più basse. Per esempio, in questo caso, crit rate 2.3, o qua addirittura abbiamo soltanto una passiva sbloccata, quindi abbiamo due che però sono comunque con un valore, diciamo, con un valore inferiore, quindi attacco solo più 8. E poi, scendendo ancora, vedete, qui ne abbiamo soltanto una, qui ne abbiamo soltanto una, qui addirittura non ne abbiamo, perché è un artefatto una stella. Quindi, non solo cambia il numero di base del potenziamento, ma anche nel momento in cui verrà potenziato l'artefatto, avrà un bonus per quanto riguarda l'aumento delle statistiche di per sé, ma avrà anche la possibilità di sbloccare un'abilità addizionale, quindi un potenziamento addizionale, con meno livelli. Infatti, se adesso andiamo nelle piume, ad esempio, vi faccio vedere se riesco ad avere l'esempio, una stella, vedete, per esempio, una piuma che ho sbloccato con 11 livelli, mi ha dato praticamente 4 potenziamenti addizionali. Mentre invece, una piuma, ad esempio, già al 7, per quanto riguarda comunque un artefatto viola, quindi 4 stelle, già a più 7 mi ha sbloccato 3 elementi. Quindi, è abbastanza comodo dal punto di vista anche economico, no? Perché comunque potenziare meno volte un artefatto vi consente comunque di ottenere più bonus. Ora, vediamo se ho degli esempi da potervi far vedere. Ecco, per esempio, abbiamo una clessidra, che in questo caso è di qualità blu, quindi 3 stelle, a livello 8. A livello 8, come potete vedere, mi ha sbloccato solo 3 passive extra. A livello 9, stessa identica cosa. Mentre invece, già, a livello 8, come potete vedere, le clessidre di 4 stelle, mi sbloccano già 4 statistiche extra, e non solo 3. Quindi, come potete vedere, la qualità, giustamente, dell'artefatto ti premia dal punto di vista delle statistiche. Quindi, meno livelli serviranno per portarle su, per avere più statistiche bonus ai lati. Vediamo se posso farvi altri esempi. Ora, qui, per esempio, ho... No, qui, purtroppo, ho soltanto... Diciamo, un calice al più 5, che praticamente mi permette di avere 3 statistiche bonus, mentre invece, ora, in questo caso, è più 7, perché, teoricamente, già al più 8 dovrei riuscire ad avere esatto. Come potete vedere qua, al più 8, praticamente, si riescono ad ottenere già 4 statistiche extra in più. E questo, diciamo, è, appunto, il vantaggio che avete nel realizzare, o comunque nel potenziare, gli artefatti a 4 stelle. Per quanto riguarda il farming, ovviamente, gli artefatti si possono trovare all'interno di alcuni dungeon, all'interno delle casse, man mano che andrete, appunto, ad esplorare la mappa, solo che dentro le casse, comunque, troverete il più delle volte artefatti di livello 1 o 2, qualche volta, in caso raro, in delle Exquisite o delle Previous Chest, potreste trovare anche artefatti a 3 stelle, però il metodo più veloce è quello di fare i dungeon, possibilmente, in multiplayer. Uno dei dungeon che io, personalmente, consiglio di affrontare è questo qui, Light and Place of Zoo Formula. Praticamente, questo è un dungeon che a me piace parecchio, proprio perché sblocca, se vi faccio vedere, già a partire da rank 30, però, quindi state molto attenti, sblocca, praticamente, gli artefatti del Martial Artist. Artefatti del Martial Artist, che, personalmente parlando, reputo molto, molto interessanti, per quasi tutti i personaggi, in cui due pezzi soltanto, incrementano già gli attacchi normali, e gli attacchi caricati, del 15%, quindi incrementano i danni, già di base, del 15%. Mentre addirittura, quattro pezzi, ci consentono, dopo l'utilizzo di una skill elementale, ci permettono di aumentare il danno normale caricato, di un ulteriore 25%, per altri 8 secondi. Quindi devo dire che questo kit, questo set del Martial Artist, può andar bene, principalmente su quasi tutti. Che siano DPS, che siano supporti, potete tranquillamente equipaggiarli, perché le skill elementali, le utilizzate con tutti, i danni aumentati, fanno comodo bene o male su tutti, e per cominciare, sono sicuro che questo possa essere, davvero, un ottimo set. Purtroppo, a partire dal rank, diciamo, purtroppo a partire dal rank, soltanto 35, si inizieranno a sbloccare, gli artefatti, un po' magari, con un drop rate migliore, dato che sono la maggior parte, quattro stelle. Qui purtroppo, la maggior parte degli artefatti, sarà tre stelle, a caso, veramente eccezionale, con tanta fortuna, si potrà riuscire, ad ottenere, anche qualche artefatto, quattro stelle. Io ne ho ottenuti un paio, però, veramente, il drop rate è molto basso. Infatti, non vedo l'ora di arrivare al rank 35, non solo, per sbloccare questo dungeon, e avere la possibilità, di poter, farmare, comunque, gli artefatti quattro stelle, che comunque qui sono molto buoni, ma anche perché voglio andare a farmare, quest'altro tipo di artefatto, che già praticamente, a livello 35, ci consente di ottenere questi kit. Ovvero, Gambler, che praticamente, incrementa, l'elemental skill damage, che è molto buono, e poi, sconfiggere un nemico, ha il 100% di possibilità, di rimuovere il cooldown, dell'elemental skill. Quindi, per un personaggio, magari come 20, che sfrutta particolarmente, l'elemental skill, questo potrebbe essere, un ottimo set. però, c'è anche, lo scolar, che è molto buono, dove praticamente, si aumenta, l'energy recharge, e soprattutto, quattro pezzi, ci permettono, di guadagnare energia, a tutto quanto il party, se abbiamo, comunque, arco, oppure, i libri, i catalyst, praticamente, equipaggiati. Però, penso che quello migliore di tutti, sia questo. Soprattutto per i DPS, e soprattutto per quei personaggi, che comunque, hanno a che fare, con danni fisici. Perché qui abbiamo, due pezzi, aumentiamo i danni fisici, del 25%, e con quattro pezzi, abbiamo, dopo aver sconfitto, un nemico, incrementiamo, il charged attack, del 50%. Anche se, in realtà, due pezzi, secondo me, di questo, vanno assolutamente bene. E poi, qual era l'altro, che mi piaceva particolarmente? No, ce n'era un altro, di dungeon, che mi piaceva, per quanto riguardava, i pezzi. Che se non sbaglio, forse era qui sotto? No, questo non c'entra. Dov'era? C'era un altro dungeon, che in realtà, volevo, volevo sbloccare. Che però si sbloccava, a rank, a rank superiore. no, non ci sto facendo caso, in realtà, adesso. Di questa cosa, un pochino, mi dispiace. Perché, volevo, comunque, consigliarvelo. Però, diciamo che, questo, insieme a quest'altro, già comunque, danno dei kit, molto, molto interessanti. Soprattutto, a partire dal livello 35, cioè dal rank 35, dove si avrà, una frequenza maggiore, di poter ottenere, artefatti 4 stelle. Ma la cosa, che assolutamente, consiglio di fare, è quello, di confrontarsi, con lo storm terror. Perché, lo storm terror, in base al vostro rank, potete affrontare, comunque, diversi livelli, dello storm terror, ha a disposizione, questo, artefatto, che ovvero, è il gladiators finale. Dove abbiamo, l'attacco del 18%, con solo due pezzi, e quattro pezzi, se, colui che equipaggia, questo artefatto, possiede una spada, uno spadone, o una lancia, incrementa, il loro attacco normale, il danno del loro attacco normale, del 35%. Quindi, questo, veramente, può essere, un kit, anzi, un set, di artefatti, che se trovate, le combinazioni di attacco, e crit rate giuste, vi permettono, di fare, 1500, 1600, dipende, a colpo, soprattutto, col colpo normale, quindi, molto, molto rapido, e non con i colpi caritati, che, ovviamente, un pochino, sono un po' più lenti, no? Dal punto di vista, di offensivo. Quindi, questo, veramente, cercate di, farmarlo, il più possibile, perché, veramente, ne vale, secondo me, ne vale, molto, molto, molto la pena. Detto questo, io, concludo, qui, il mio video, spero, che, questa piccola, guida, vi possa essere, stata utile, detto ciò, vi ringrazio, per essere stati con me, e ci vediamo, alla prossima.